la televendita sbagliata sono qui per parlarvi delle sigarette ma come lei fuma? mi fumo molto poco dalle ore 5 alle 18 dall'862 fumo sigarette leggerissime ai suoi tempi doveva arrollarselo da solo e ti irrita meno la gola per questo è senza filtro le fumo ormai da anni questo si è sapore di sigaretta il sigaretta è sport possono andare d'accordo? dalle 18 alle 20 e 30 solamente da sport se uno proprio deve fumare che fume il più leggero possibile? per esempio 7-8 spinelli miglior tiraggio più aroma meno irritazione assaggiate se la assaggiate ve ne innamorate questa sigaretta sa di merda cazzo mentre siete in giro a spassarvela da oggi vi rovinerò la vita prima vivevo felice e adesso sono piena di problemi prima vivevo felice e poi e poi prima vivevo felice è stato lo sbaglio più grande che potessi fare prima vivevo felice il più grande sbaglio della vita e i primi cento che chiameranno riceveranno una pietra il più grande sbaglio della vita tutto questo sarà solo un ricordo grazie al cazzo hey man you can't talk to my woman like that shut up i see we have another comedian in the house dacci un taglio d'accordo tieni chiusa quella bocca non voglio sentire vi ringraziamo e soprattutto raccomandiamo di attenerci alle disposizioni anti-covid buona serata trascinatelo per la casa con grande fatica non ha le rotelle e ogni tanto emette un suono fastidiosissimo potrebbe prendere improvvisamente fuoco non ha le rotelle non ho i